Gloria a Dio, eccoci qua, gloria al Signore. Aspettiamo ancora qualche secondo, ci sono altri che magari si stanno collegando tramite Zoom, anche perché questa riunione si sta svolgendo tramite la piattaforma Zoom, poi abbiamo scoperto che si può condividere in diretta tramite YouTube e abbiamo approfittato di questa funzione. Aspettiamo giusto qualche secondo. Gloria al nome santo del Signore, gloria a Dio. Intanto voglio dirvi qualcosa per coloro che non partecipano alle nostre riunioni di preghiera tramite Zoom, voglio dirvi che grazie al Signore, grazie a Dio ovviamente, il Signore ci sta incoraggiando tramite queste preghiere. È un modo diverso di pregare il Signore, però io sono convinto, siamo convinti nel nostro cuore che quando c'è il desiderio veramente di cercare il Signore ogni mezzo va bene. Quindi io vi invito, vi invito nell'amore del Signore a partecipare a queste preghiere, non per fare numero, perché questo non ci interessa proprio, ma quello che ci interessa è incoraggiare, incoraggiarvi a pregare Dio. Questo è il tempo di cercare il Signore, lo ripetiamo spesso perché lo sentiamo nei nostri cuori. Questo è il tempo di cercare il Signore, di pregarlo, di tenere lo sguardo in alto perché come sappiamo Gesù sta per tornare per rapire la sua Chiesa. E noi vogliamo essere trovati pronti. Gloria a Dio, gloria al Signore. Direi, visto che su Zoom siamo parecchi, mentre siamo pochi su YouTube, però a prescindere dal numero, vogliamo iniziare questa riunione perché abbiamo dato dei tempi e quindi vogliamo cercare di rispettarli. Vi inviterei, cari fratelli e care sorelle, a chiudere gli occhi e a pregare il Signore tutti insieme. Vogliamo mettere questa riunione davanti a Dio. Gloria al tuo nome Signore, gloria al tuo nome Santo Gesù. Possiamo lodarlo il Signore, possiamo ringraziarlo a voce palassa. Possiamo farlo. Gloria al nome Santo del Signore. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Aiutaci, aiutaci. Che cosa sia fatta per la tua gloria e per le definizioni. metti in noi i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, Signore. Io fedele, gloria al tuo nome Signore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho notato il titolo di questa riunione che è tratto da un libricino molto bello che vi invito a leggere, non è che sto facendo pubblicità, il libro non l'ho fatto io. È un libricino molto bello che parla dei risvegli che Dio ha mandato nel tempo e ho preso questo titolo e ho pensato di utilizzarlo. Il risveglio di cui abbiamo bisogno. Ora non voglio proprio entrare nei particolari perché ci vorrebbe veramente molto tempo per parlare di questi grandi risvegli che Dio ha mandato, ma vogliamo toccarlo brevemente con l'aiuto del Signore. Allora, un cantico, i cantici li ho scelti io proprio in vista di questa riunione, considerando il tema della riunione. E il primo, e sono tutti i cantici antichi che noi vogliamo rispolverare, cantici che io ritengo e riteniamo anche noi ispirati dallo Spirito Santo. Ameno, gloria a Dio, questi nuovi canti, questi nuovi inni che vengono fatti oggi, insomma queste canzoni spirituali per meglio dire. Questi sono cantici veramente ispirati dall'alto. E il canto è il 294 che ce lo canterà la sorella Francesca e l'accompagnerà il fatello Maurizio con gli strumenti. No, vieni qua. Gloria al Signore. Ameno, gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Attendiamo la pienezza della gloria del Signore che il nostro almeno arricchirà. Proprio come a Pentecoste, se crediamo con tutto il cuore, il Signore risponderà. Ora noi saremmo i pieni di potenza, dello Spirito del Signore, apriamo i nostri cuori. Ora noi traboccheremo il Signore che il fuoco scenderebbe. L'alme nostra e il fuoco scenderebbe. L'alme nostra e pure e sante ha i piedi del Salvatore, consacrià con umiltà. Attendiamo finché lo Spirito benedetto del Signore, con virtù su noi cadrà. Ora noi saremmo i pieni di potenza, dello Spirito del Signore che apriamo i nostri cuori. Ora noi traboccheremo di letizia ed il fuoco scenderà. Il Buon Padre l'ha promesso e fedel rimane ognuno, ogni dono un argirà. Col suo Spirito, con potenza e col fuoco del suo amor, tutti noi battezzerà. Ora noi saremmo i pieni di potenza, dello Spirito del Signore che apriamo i nostri cuori. Ora noi traboccheremo di letizia ed il fuoco scenderà. Gloria a Dio, gloria a Dio. Bellissimo questo cantico. Gloria al nome santo del Signore. Allora vogliamo nuovamente accostarci a Dio in preghiera per chiedere ancora una volta che il Signore benedica questa riunione. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Questo oramai lo sappiamo e sentiamo nei nostri cuori questa grande necessità che il Signore intervenga nella nostra vita, entri nei nostri cuori. Gloria a Dio. Io vorrei chiedere alla sorella Katia, tanto credo che ci sia solo lei, Katia Vizzo, di guidarci in preghiera. Gloria al Signore. Ecco, vogliamo chiudere gli occhi e pregare. Gloria a Dio. Amén, Signore. Gloria al Signore Gesù. Gloria al Signore Gesù. Amén, Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Signore, siamo qui davanti a Te per lodarti, per innalzare il Tuo santo e potente e unico nome, Signore. Ti ringraziamo, Signore, per come ancora quest'oggi ci stai guidando e grazie perché ci dai ancora quest'opportunità di essere qui tutti insieme in un unico cuore, in un unico sentimento davanti al Tuo trono, Signore. Signore, ci accostiamo a Te con la sottomissione che Ti è dovuta e Ti chiediamo di aiutarci ad esserlo ancora di più, sempre di più, Signore. Mettiamo davanti a Te, Signore, le testimonianze, Padre nostro. Mettiamo davanti a Te i cantici, Signore. Ogni cosa che si dirà, Signore, che sia detta con l'unzione dello spirito, Signore. Ti chiediamo ancora di toccare i fratelli e le sorelle che hanno bisogno in modo particolare della Tua mano, Signore, per una guarigione fisica, Signore, o spirituale, o morale, Signore. Tu conosci ogni cuore, ogni situazione e grazie anche per questo, Signore. Grazie, perché per ogni cosa possiamo venire a Te. Sappiamo che nessuna preghiera rimane inascoltata davanti a Te, Signore. E questo ci consola, ci fortifica e ci aiuta, Signore. Grazie per ogni cosa, Padre. Ogni cosa te la chiediamo nel nome potente e santo di Gesù Cristo, al nostro Signore Salvatore, benedetto da ora in eterno. Amen. Amen, amen, amen. Gloria a Dio, gloria a Dio. Gloria al Signore. Alleluia. Non avete sentito l'amen di tutti, perché sennò si sentono troppi rumori, troppi rumori sotto. Quindi ho messo tutti in silenzio. Gloria a Dio. Allora proseguiremo con l'aiuto del Signore in questo modo. Ho chiesto al fratello Alessio di intervenire, grazie a Dio, insomma, per averlo qui in mezzo a noi e darci appunto il suo punto di vista, che non è poi il suo punto di vista, ma quello che il Signore ha messo nel suo cuore per quanto riguarda questo argomento così importante che è il risveglio, fratelli e sorelle. Gloria a Dio. E vogliamo ascoltarlo e sentire quello che il Signore ha messo nel suo cuore. Aspetta che ti do l'audio. Benvenuto, caro fratello. Amen. Mi sentite? Sì. Amen. Gloria a Dio. La pace del Signore sia con tutti voi e con tutti quelli che ascolteranno questo video anche in differita. Dio vi benedica. Allora, io vorrei parlare pochi minuti. Vorrei riprendere le parole del pastore che poc'anzi ha detto. Questo è il tempo di cercare il Signore. Gloria a Dio. Mai come oggi è importante, è sempre stato importante, ma mai come oggi è il tempo di alzare lo sguardo in alto. Gloria a Dio. In Proverbi 4, verso 23, leggiamo, «Sopra ogni guardia guarda il tuo cuore». Perché? Perché da esso procede la vita. Cioè, dal cuore procede la vita, nel senso che le decisioni del cuore ti possono portare verso la vita, ovvero verso la morte. Certamente questo argomento riguarda la Chiesa di Gesù Cristo. È chiaro questo. Marco 13, Marco 14, il Signore Gesù Cristo ha in più occasioni, ma questo comandamento nero su bianco lo ritroviamo anche come principio biblico dalla Genesi all'Apocalisse. Il Signore dice in continuazione, «Vegliate». «Vegliate perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera, se a mezzanotte, se al cantar del gallo. certamente questo si riferisce al rapimento della Chiesa, ma si può riferire anche alla chiamata che ciascuno di noi può ricevere in qualsiasi momento dal Padre». Sempre in Marco 14, leggiamo «Vegliate, pregate». Perché? Affinché non cadiate in tentazione. E ancora Pietro ci dirà «Siate sobri e vegliate». Perché? Perché l'avversario che esiste va attorno, attorno proprio di voi, e lo fa come leon ruggente, cercando che possa divorare. Quindi nella volontà del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, non rientra in modo assoluto il dormire. Proprio non è nei suoi piani. La volontà del Signore è quella di essere vigili, di essere sobri, di essere presenti, di essere svegli. Per questo il Signore Gesù Cristo in una occasione ebbe a dire «Siccome ha detto la scrittura, dal suo seno coleranno fiumi di acqua viva». Sì, il Signore Gesù Cristo ha compiuto questa opera. È morto sulla croce, è risorto per farci conoscere per esperienza la terza persona della Trinità con una potenza che fino a quel momento non era mai stata riversata sui credenti. Infatti, Giovanni 15, 5 ci ricorda che senza il Signore non possiamo far nulla. Ecco perché il Signore ha dato questa meravigliosa unzione di Spirito Santo alla sua Chiesa e la Chiesa è chiamata a ricercare certamente tutti nati di nuovo abbiamo lo Spirito Santo, ma è chiamata a ricercare questa ulteriore potenza di Spirito Santo. Ma ahimè, ahimè. Anche se non è la volontà del Padre, il Signore ha profetizzato che proprio verso la fine, Matteo 25, la Chiesa si sarebbe addormentata. E vorrei concludere con una profonda, perché è biblica, considerazione. A prescindere chi sei tu che ascolti, caro amico che ascolterai questo video, magari indifferita, a prescindere se tu sei sveglio per la grazia di Dio e che gloria a Dio ti trovi dove devi stare o magari ti sei addormentato e allora hai bisogno di risvegliarti, a prescindere da qual gruppo appunto farai parte, c'è una cosa che tutti dobbiamo fare ed è quanto segue. è scritto che Romani 10 la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio, ma questa parola tramite la fede deve penetrare in noi. Perché? Perché i giudei furono accusati dal Signore, questo è scritto in Giovanni 8, proprio che loro avevano questa parola, questa Torah, questa legge, questi profeti, questi salmi, ma non penetrava in loro. E allora è importante, come è scritto in Galati, crocifiggere, perché stiamo parlando alla Chiesa, crocifiggere la nostra carne, il nostro sollazzamento, questo mondo è effimero, è veramente darci con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutto lo spirito alle cose eterne, a cercare, a picchiare, a bussare, perché scritto è che chi cerca il Signore lo trova. Ecco perché il Signore, quando si rivolge alla sua Chiesa, in Efesi 5, dice, risvegliati tu che dormi, perché tu hai conosciuto le cose di Dio, hai conosciuto la potenza dello Spirito Santo, e se magari, purtroppo, ahimè, ti sei addormentato, risvegliati, o tu che dormi e risorgi dai morti. E allora, vi vorrei lasciare con queste parole che si trovano in Prima Pietro 2,12, avendo una buona condotta fra i pagani, anfi che laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria al Signore quando? Nel giorno che il Dio li visiterà. Benedetto è il santo nome del Signore, fratelli, amici, quando noi cerchiamo il Signore, quando noi siamo sempre in comunione con il Signore, allora la gente vedrà e nel momento poi succede quello che succede dentro i cuori solo, il Dio lo sa, ma certamente l'opera comincia il risveglio comincia da noi e poi intorno di noi, cominciando dalle nostre famiglie, i nostri mariti, le nostre mogli, i nostri figli, i nostri luoghi di lavoro, il nostro vicinato, ecco che cos'è il risveglio in poche parole, almeno una delle tante maniere di presentare il risveglio, come ben sapete un argomento si può presentare in molti modi ma questo è uno dei modi più semplici ma profondi perché chiudo con queste parole una vita non basta per essere creati a immagine e somiglianza di Dio tramite la sua parola perché ogni giorno dobbiamo morire a noi stessi e morire a noi stessi di certamente alla carne non piace ma non dobbiamo piacere alla carne dobbiamo piacere allo spirito e camminare per lo spirito e quindi io con queste poche parole vi lascio vi dico il Signore vi benedica il Signore ci benedica e il Signore ci continui a dare grazia cerchiamo il Signore mentre ancora stiamo in tempo ridò la parola al pastore Fabrizio Evangelisti Dio vi benedica fratello Alessio grazie gloria a Dio gloria al nome santo del Signore condivida pieno quello che è stato detto questi preziosi insegnamenti la Chiesa ha ricevuto questo messaggio risvegliati o tu che dormi quindi risveglio come ha detto il fratello inizia da noi siamo noi che ci dobbiamo risvegliare gloria a Dio abbiamo detto che avremmo trattato questo questo argomento però ho sentito nel cuore di condividere con voi anche due testimonianze importanti che riguardano la salvezza non solo anche sono una sorella e un fratello e vi racconteranno come appunto hanno conosciuto il Signore come sono giunti a ricevere da parte di Dio un suo intervento riguardante appunto come ho detto adesso la salvezza il perdono dei nostri peccati e anche il battesimo nello Spirito Santo che già più di qualche volta che sentite che citiamo questo argomento che abbiamo già in altre occasioni spiegato insomma non abbondantemente però piano piano ci arriveremo un pezzettino alla volta e vogliamo ascoltare la testimonianza della sorella Laura cominciamo con la nostra cara sorella allora sorella Laura il Signore di Benedica gloria a Dio mi raccomando la voce ecco così ti sentiamo bene allora intanto volevo chiedervi di scusarmi se mi vedete leggere ma siccome un po' sono emotiva e mi blocco un po' mi dimentico le cose allora ho preferito buttare giù e leggere va bene va benissimo il Signore si ha rodato allora voglio iniziare la mia testimonianza ringraziando il Signore per l'opera meravigliosa che ha fatto nella mia vita il Signore ha cambiato completamente il mio modo di vivere di parlare e di guardare al mondo fuori il Signore ha operato in me dandomi guarigioni miracoli salvezza e vita eterna sono entrata per la prima volta nella mia chiesa di via tagliamento a fine 91 soprattutto per capire chi stesse frequentando mia figlia perché è stata lei a parlarne per prima e sono rimasta stupita nel vedere tutte queste persone che pregavano a voce alta parlando con Dio come se fosse una persona vivente mi hanno detto Dio libera Dio salva Dio perdona tutti i tuoi peccati ma io non mi sentivo una peccatrice ero una persona corretta con una buona educazione con una vita alle spalle piena di gioia di divertimenti ma anche di sofferenze un po' come tutti noi dopo quel giorno non volevo ritornarci perché ero un pochino intimorita nel sapere che il Signore era un Dio vivente e questo mi faceva sentire come scoperta davanti a Lui ho fatto resistenza ma mia figlia Francesca con forza determinazione e dolcezza mi ha convinto a ritornare in chiesa e lì il Signore che è infinitamente buono mi ha preso tra le sue braccia e non mi ha più lasciato andare ha conquistato il mio cuore con dolcezza ogni giorno sempre di più togliendomi tutte le paure e le incertezze dopo circa due anni che frequentavo la Chiesa il Signore mi ha tolto il vizio del fumo e tante altre abitudini non buone davanti ai Suoi occhi dopo quattro anni ho fatto il battesimo in acqua e da quel momento ho desiderato con forza sempre più il battesimo nello Spirito Santo pregando continuamente giorno e notte in chiesa in casa e in riunioni di preghiera con altri fratelli e dopo quattro mesi il Signore mi ha fatto il regalo più bello e più prezioso che si possa ricevere il battesimo nel suo Santo Spirito è stato meraviglioso ho fatto tante altre esperienze con il Signore che mi piacerebbe raccontarvi ma non abbiamo tempo voglio concludere dicendo solamente a chi non conosce il Signore o lo conosce ma non vuole arrendersi a Lui non aver paura Dio ti ama e ti sta aspettando confida in Lui e non te ne pentirai mai perché quello che Dio ha fatto per me e per tutti noi lo farà di certo anche con te a Dio salarò della gloria e tutta la mia riconoscenza e il mio amore laura in eterno amén amén gloria a Dio gloria a Dio gloria al Signore per questa testimonianza abbiamo ascoltato di come come il Signore ha risposto sorella Laura io solamente una piccola come è accaduto come è accaduto come è successo tu hai raccontato quanto riguarda il battesimo nello Spirito Santo avevi iniziato a pregare con più perseveranza con più costanza e quindi avevi cominciato da casa pregavi da casa pregavi in chiesa e pregavi attraverso delle riunioni proprio specifiche di preghiera perché richiedevamo tutti quanti lo Spirito Santo ed è stato un periodo in cui il Signore è veramente stato meraviglioso ha battezzato tanti fratelli uno gli edo l'altro mi ricordo che quel giorno come è successo ecco come ti è successo io dico la verità io vedevo tutte queste persone venivano battezzate ma io avevo sempre paura che a me non sarebbe mai successo ero ero e chiedevo chiedevo al Signore quel giorno sono andata appunto a una riunione di preghiera a casa della sorella Marina c'erano tanti fratelli e niente ho pregato ho pregato ho pregato ho pregato tanto e è arrivata una certa ora Marina stessa mi ha accompagnato con la macchina perché si era fatto tardi ed era buio scendo dalla macchina saluto Marina e per venire a casa mia devo attraversare un viale entrando nel viale che era tutto buio io continuavo talmente ripiena proprio continuavo a dire gloria a Dio gloria a Dio e ho alzato il braccio dicendo gloria a Dio e mi sono anche guardata intorno perché se qualcuno mi vede cosa pensa mentre alzavo il braccio e dicevo gloria a Dio ho sentito dentro mi sono uscite due parole strane con il nome italiano e mi sono bloccata mi sono spaventato ho avuto paura di strozzarmi non capivo eccetera poi il signore che mi conosce sa che sono ansiosa anche se non sembra mi mette sempre pace dentro mi tranquillizza mi fa sentire il suo amore e la sua potenza e piano piano sono arrivata a casa sono entrata dentro casa e mia figlia Francesca non era ancora sposata con Maurizio e ho bussato lei ha aperto l'ho guardata e toccandomi la gola perché da lì usciva ma guardate ho detto mamma che succede ho detto Francesca non lo so ho detto qualcosa ma il signore mi viene da piangere scusate gloria a Dio gloria a Dio non ti preoccupare gloria a Dio il signore ti sta battezzando non è possibile non ci credo ho chiamato subito Marina e Marina mi ha detto che succede dico Marina guarda così dici vuoi che vengo io ho detto no no non ti preoccupare sono a casa e devo dire che ero talmente ripiena però talmente agitata che il signore aveva messo dentro una calma stranissima non mi ricordo se ho mangiato o meno mi sono messa a letto e ho dormito cosa che non pensavo la mattina dopo ho avuto la pienezza è stato meraviglioso meraviglioso cioè il signore ti ha riempito nel suo spirito la mattina dopo ho cominciato a parlare solo in lingue tanto che parlando con Marina dicevo Marina ma vorrei pregare anche in italiano dico ma perché sempre tutto in lingue e lei mi diceva stai tranquilla non ci posso fare ed è stata un'esplosione continua di giorno di notte chiaramente ho avuto un po' di guerra dentro casa è normale è normale mi chiudevo nel bagno per poter pregare e lui ribussava contro il muro comunque tutto questo poi dopo è finito insomma il signore voglio dire la guerra in casa è finita il signore è stato grandioso meraviglioso mi dispiace di averlo conosciuto in tarda età il signore è grande signore di benedica qui continui a benedire sorella Laura grazie grazie per questa meravigliosa testimonianza ah scusa scusa ho tolto l'audio rimettilo rimettilo per favore oggi dicevo che chiedo al signore di essere riempita nuovamente perché ho veramente bisogno di sentirlo potentemente dentro di me signore è grande addio sia amén 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 gloria a Dio voglio dirvi qualcosa fratelli e sorelle ci sono lo so lo so perché in questi anni insomma ne ho sentite diverse di opinioni c'è qualcuno che dice non è il caso di parlare di queste esperienze in pubblico sul battesimo nello spirito santo nello spirito santo scusate in realtà fratelli io non condivido questa questa opinione anche perché nella Bibbia noi troviamo scritte queste esperienze e la Bibbia come noi sappiamo è il libro più diffuso al mondo quindi se la parola di Dio ne parla esplicitamente chiaramente perché noi ci dobbiamo trattenere a raccontare questa tipologia di esperienze visto che è Dio stesso che ha operato tutto questo anzi con l'aiuto del Signore possiamo essere di incoraggiamento a quanti ascoltano ai credenti a coloro che hanno ricevuto Gesù nel proprio cuore a ricercare il battesimo nello spirito santo mi raccomando perché non è come diciamo spesso non è un optional ma è una necessità Dio stesso che viene ad abitare nei nostri cuori Dio stesso che interviene in maniera miracolosa attraverso la manifestazione delle lingue e questo è molto importante fratelli adesso ascolteremo una testimonianza un po' diversa non è proprio come quella della sorella questo ci aiuta un pochino a non fare dei schemi sull'opera di Dio perché noi siamo facilmente portati quando leggiamo delle cose ascoltiamo delle esperienze facciamo uno più uno diciamo il Signore opera in questo modo adesso ascolteremo una testimonianza molto diversa che è il nostro fratello il nostro fratello si chiama Gesù quindi il nome non lo possiamo cambiare perché gli è stato dato questo quindi è giusto chiamarlo per nome e ci racconterà invece come come ha incontrato il Signore e come ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo fratello Gesù beh la mia testimonianza è molto diversa grazie a Dio perché il Signore l'opera del Signore è meravigliosa perché cambia non è tutti uguali per i credenti io non conoscevo nulla fratelli io non sapevo nulla non sapevo che cos'era lo Spirito Santo non sapevo non conoscevo nulla non avevo aperto mai la Bibbia e i miei genitori erano cattolici si andava a messa una volta all'anno vabbè però io non ho mai sentito ecco mio padre bestemmiare o qualcosa anzi quando perché noi eravamo otto figli ci mettevamo a tavola e papà prima di iniziare a mangiare pregavo il Dio e questo è meraviglioso però tornando un pochino come il Signore ha operato con me io l'età a me sono stato molto giovane io avevo 24 anni adesso ne ho 76 perciò fate i conti un pochino quanti anni sono gloria a Dio e mia suocera che era una credente la madre di mia moglie insomma mia suocera un giorno mi disse Gesù perché non non vieni in chiesa con me ma dice sai il Signore ti perdona io poi pensavo mi perdona ma di che cosa mi perdoni che io non ho fatto male a nessuno di che cosa mi deve perdonare non ho capito va bene allora ho accettato una sera sono andato con lei era di martedì che sono andata di lei e devo dire che la prima impressione è stata un po' già ho trovato un locale vuoto senza nulla senza statue senza niente abituato ad andare in chiesa cattolica allora dico ma non capisco però la domenica apprezza che sono andate che c'era c'erano molti fratelli e ho notato ho sentito qualcosa di molto molto diverso perché vedevo il loro vedevo sincerità amore verso verso tutti insomma e vedevo gioia il loro ecco è qualcosa che mi ha mi ha toccato ecco e di fatti io ho iniziato ad andare da solo in chiesa adesso non ricordo dopo quanto tempo poi è successo questo comunque dopo diverse volte che sono andato in chiesa ero un martedì fratelli ero in chiesa eravamo pochissime persone quella sera non eravamo tanti c'era un fratellio che era Tramendozzi si chiamava fratello Tramendozzi che è morto poi c'era il papà del pastore evangelisti Fabrizio abbiamo iniziato con dei cantici e dopo ci siamo messi in preghiera ma tutto a un tratto fratelli non so ho sentito qualcosa di di meraviglioso di meraviglioso ad un tratto mi sono sentito come come una piuma leggerissimo qualcosa di straordinario che io non avevo mai non capivo più e ho iniziato a parlare in lingue ma questo è durato per molto non è durato per poco perché poi i fratelli il fratello mi ha accompagnato fino a perché a mia lo suo ce l'ha gestito una pensione io stavo lì con loro e questo è durato tutta la notte diciamo e anche la mattina è durata che di fatti mia suocera dice guarda Gesù ha chiamato mia moglie gli ha detto aspetta che c'è una signora qui che parla diverse lingue vediamo che cosa dice allora io mi ricordo benissimo quella signora anziana pure anziana dice guardi io non capisco tutte le lingue che lui parla perché lui parla diverse lingue ma quello che riesco a capire è che lui parla con il Signore parla con Dio dice qualcosa e questo è durato per pareggio poi è continuata ho continuato dopo un po' dopo qualche non so adesso non ricordo un mese o due due la gioia sempre nel cuore perché qualcosa di meraviglioso ha fatto il Signore in me e il mio desiderio è fare il battesimo in acqua ho chiesto al pastore che volevo fare il battesimo in acqua e lì veramente poi c'è stato qualcosa di veramente completa perché lì il Signore veramente ha tolto da me ogni peso ogni ogni invizio che avevo veramente ha fatto di me una persona nuova e questo però fratelli vede che questo purtroppo dopo un po' di tempo che frequentavo e glorificavo il Signore lo davo a Dio sapete voi l'avversario eh va bene ho sempre in modo no ma qualche cosa non vi racconto tutto e poi ci sono stati diversi problemi in famiglia poi non sono ci ho avuto problemi fisici ho dovuto affrontare diverse operazioni ehm ma il Signore lo Spirito Santo che Dio mi aveva donato mi ha donato e che tuttora il Signore mi ha guidato fino adesso e è stato sempre con me io lo Spirito Santo che ci assicura la la certezza che noi non siamo mai soli io ecco ho iniziato ad aprire la Bibbia la Bibbia poi ho capito che lo Spirito Santo era una una persona della Trinità e e questo lo Spirito Santo mi dava la tu mi avvicinava di più ad avere un rapporto più più profondo con Dio e questo è continuato sempre e io lo ringrazio perché tuttora il Signore mi guida in tutto quello che io faccio anzi veramente sto pregando tanto anche per i miei figli ma mi dà gioia e la gioia che mette nel cuore il Signore perché lo Spirito Santo mette gioia nel cuore ti aiuta a pregare io Signore lo Spirito Santo mi insegna a pregare a pregare per gli altri per coloro che chiedono aiuto chiedono interventi chiedono aiuto di guarigione e lui mi insegna a pregare e sento questa gioia immenso di farlo e questo è meraviglioso e Dio è quello che voglio dire a coloro io non so le persone che adesso ancora non hanno fatto un'esperienza con il Signore che ancora non ci sono aperti completamente al Signore vorrei dire che questa esperienza il Signore possono farla anche loro aprendo il cuore a Dio aprendo il cuore al Signore il Signore non ci mantaglia il Signore ci apre le braccia ci cerca ci aiuta perché ci ama ci ama tutti il Signore il Signore è amore ameno e questo è un amore grande che ha messo nel mio cuore e che vorrei tutti sentissero questo amore che sento io a Dio sia la loda e la gloria ameno ameno grazie fratello Gesù gloria a Dio gloria al Signore ecco qua abbiamo ascoltato una testimonianza diversa dalla precedente il fratello è andato in chiesa per un invito ha cominciato così a pregare a cercare il Signore e Dio l'ha battezzato nello Spirito Santo non sapendo di questa promessa non sapendo nulla quindi come vedete le esperienze sono diverse però noi siamo chiamati fratelli sorelle amici a cercare il Signore con tutto il cuore vogliamo cantare un cantico è il numero questo cantico è un po' più recente è il numero 16 del nostro trinario sorella Francesca gloria a Dio l'unzione scende su noi portando gloria e maestà poi dolcemente tra noi guarigione il ristoro ci dà l'unzione scende su noi glorificando Gesù e tutti insieme crediamo signore signore vogliamo di più di più dell'unzione di più della tua gloria di più abbiamo fame di te perché sappiamo che c'è ancora e molto di più dell'unzione della tua gloria di più Spirito Santo noi riceviamo la tua fresca unzione su noi su di noi alleluia gloria a Dio c'è un problema tecnico Francesca e Aurora non si riesce a commentare su Youtube ce l'hanno detto anche delle sorelle a commentare ecco questo ha toccato una cosa e non si può toccare si sente tutto ho capito quindi non riescono a commentare su non fa niente non fa niente non so da cosa dipende però comunque grazie alleluia gloria a Dio signore vogliamo di più stiamo andando un po' avanti nel tempo vogliamo adesso fratelli e sorelle accostarci alla parola del signore io sento nel cuore di condividere qualcosa di importante ma tutto quello che è scritto nella parola del signore è importante andiamo subito alla lettura Esdra capitolo 3 dal versetto 8 le fondamenta del tempio che il signore benedica la sua parola in questa sera intanto ringraziamo Dio per le testimonianze per quello che abbiamo potuto ascoltare e adesso vogliamo aprire il cuore alla sua parola il secondo anno dopo il loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme il secondo mese Zoro Babbel figlio di Sealtiel Jeshua figlio di Yosadak con gli altri loro fratelli sacerdoti e leviti e tutti quelli che erano tornati dall'esilio a Gerusalemme si misero all'opera incaricarono i leviti da vent'anni in su di dirigere i lavori della casa del signore Jeshua con i suoi figli e i suoi fratelli Kadmiel con i suoi figli figli di Giuda si presentarono come un sol uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio lo stesso fecero i figli di Kenadad con i loro figli e con i loro fratelli i leviti quando i costruttori posero le fondamenta del tempio del signore vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti con delle trombe e i leviti figli di Asaf con dei cembali per lodare il signore secondo le direttive date da Davide re di Israele essi cantavano rispondendosi a vicenda celebrando e lodando il signore perché egli è buono perché la sua bontà verso Israele dura in eterno e tutto il popolo gridando di gioia lodava il signore perché si erano poste le fondamenta della casa del signore molti sacerdoti leviti e capi famiglie anziani che avevano visto la prima casa piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa molti altri invece alzavano le loro voci gridando per la gioia al punto che non si potesse distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del pianto del popolo perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano vogliamo brevemente chiudere gli occhi e pregare il signore gloria a dio alleluia signore dio nostro e padre nostro veniamo a te nel nome di gesù in questo momento innanzitutto per ringraziarti per l'opportunità che ci dai o dio di poter ascoltare la tua opera di poter ascoltare la tua parola o dio ti chiediamo di pari consentimento che tu in questa sera ci apri la mente ci apri il cuore che ci fa intendere quello che tu vuoi dirci signore parla attraverso il tuo spirito signore unge le mie labbra signore fa che ogni cosa che sia detta sia detta per la gloria del tuo nome e per l'edificazione allontana da me ogni pensiero ogni sentimento che non è tuo purifica il mio cuore signore e il cuore di quanti ascoltano questa parola te lo chiedo e te lo chiediamo nel nome di gesù il figlio tuo benedetto in eterno amen gloria a dio abbiamo letto nel testo lo ripropongo la parte finale come abbiamo visto qui nei primi versetti erano state poste poste le fondamenta del tempio ora come tutti sapete il tempio di gerusalemme era stato distrutto e dopo 70 anni appunto di deportazione questo popolo piano piano mediante l'editto di Ciro erano ritornati a costruire a costruire il tempio e come sappiamo insomma il tempio non è stata un qualcosa la ricostruzione del secondo tempio non è stato qualcosa di semplice e qui ci troviamo proprio all'inizio quando sono state gettate le fondamenta quello che vorrei attirare la vostra attenzione è su quello che accade specialmente nei versetti 12 e 13 molti sacerdoti leviti e capi famiglie anziani cioè delle persone che avevano visto la costruzione del primo tempio piangevano ad alta voce mentre si ponevano le fondamenta scusate della nuova casa molti altri invece alzarono alzavano le loro voci gridando per la gioia al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del pianto del popolo perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano ma pensate un po' che cosa è successo fratelli e sorelle e forse leggendolo così può sembrare strano questo avvenimento finalmente questo tempio si stava era ricominciata la costruzione come ho detto poc'anzi beh insomma finalmente si inizia a vedere un barlume di luce finalmente questo popolo ricomincia a rialzarsi è normale che quando noi cominciamo a vedere che le cose migliorano nella nostra vita ci rallegriamo anche se dobbiamo sempre rimanere con i piedi per terra e anche perché poi la ricostruzione del tempio come abbiamo parlato la domenica precedente non è stata un qualcosa di immediato e di semplice c'è voluto del tempo questo anche a causa della loro dei loro timori della loro pigrizia spirituale insomma ci sono state diverse cause che hanno interrotto questa opera che poi è stata ripresa e completata e vedete fratelli e sorelle succede qualcosa di strano quelli più anziani che avevano assistito alla costruzione del primo tempio piangevano i più giovani probabilmente erano quelli che invece si rallegravano quindi due categorie potremmo dire oggi di credenti e penso che tutti un po' conoscete la costruzione del primo tempio quella operata da Salomone con la sapienza che Dio gli aveva dato a questo uomo di Dio tutti sappiamo il Signore come l'ha guidato in modo particolare a costruire questo tempio meraviglioso bellissimo è la cosa forse più particolare sicuramente più bella è stata che quando c'è stata la celebrazione insomma di questo tempio la gloria di Dio è scesa in quella in quella casa riempendola tant'è vero che non riuscivano più i leviti a svolgere le loro funzioni perché c'era la presenza di Dio molto forte e sicuramente questi anziani che piangevano avevano visto la gloria del primo tempio ecco perché vedendo le fondamenta piangevano ricordando quella grande opera che il Signore aveva fatto vedete i giovani si rallegravano gli anziani piangevano perché venivano da esperienze diverse e noi con l'aiuto del Signore fratelli e sorelle ci vogliamo proprio soffermare su questo argomento facendo subito due precisazioni così non darò adito a fraintendimenti la prima precisazione è questa noi non dobbiamo disprezzare il giorno delle piccole cose dobbiamo anzi apprezzare ogni cosa dell'opera di Dio ci tengo questo a dirlo all'inizio così non do adito a fraintendimenti la seconda puntualizzazione che vorrei fare insieme con voi con l'aiuto del Signore è che ci dobbiamo rallegrare sempre nel Signore come dice la parola di Dio e adesso tornerò qui al testo che abbiamo letto gli anziani avevano visto la gloria del primo tempio e non potevano a differenza dei giovani rallegrarsi nel vedere le fondamenta di un tempio che ancora doveva ricostruirsi volendo parafrasare questo episodio per attualizzarlo ai nostri giorni possiamo dire che le esperienze spirituali che molti giovani e meno giovani stanno vivendo oggi si distinguono molto dalle cose che accadevano qualche decennio fa cioè da fratelli forse più anziani che hanno fatto esperienze lasciatemelo dire forse più profonde non sto facendo una distinzione o una critica ai giovani d'oggi o ai meno giovani sto solamente cercando con l'aiuto del Signore di tentare di dare la giusta visione di quello che accade oggi e di quello che è accaduto tanti anni fa ognuno di noi in base alle proprie esperienze vissute con il Signore ha un concetto personale della frase il Signore mi ha grandemente benedetto vedete cari fratelli stavo leggendo e mi capita spesso di leggere su Facebook e su altri social di fratelli che appunto fanno delle esternazioni le scrivono e scrivono in questo modo e non è una critica ripeto oggi il Signore in questa riunione ci ha grandemente benedetti e io ogni volta che leggo queste frasi non vi nascondo fratelli e sorelle che provo una certa vergogna in che senso beh ognuno di noi ha il suo il suo come posso dire ha le sue personali esperienze e quindi quando diciamo grandemente benedetto noi stiamo dicendo qualcosa se voi se noi tornassimo indietro diciamo di circa duemila anni fa e tornassimo all'epoca degli apostoli di quando Filippo portava il lieto messaggio della parola di Dio e molti erano battezzati c'erano grandi miracoli opere potenti poi vi ricordate dopo Filippo vennero gli apostoli imposero le mani e ricevettero lo Spirito Santo ora se voi andavate da Filippo e dagli apostoli lasciatemi parlare in questo modo e qualcuno fosse andato da loro e gli avesse detto oggi il Signore ci ha grandemente benedetti sicuramente avrebbero pensato allora Dio ha battezzato ha salvato ha guarito ha liberato questo era il concetto della grande benedizione da parte di Dio che veniva dall'era apostolica ovviamente ma poi il Signore nell'arco degli anni insomma ringraziando Dio ha mandato tanti risvegli io ho letto diversi libri sui risvegli e sarebbe bello leggerli considerare quello che Dio ha compiuto e considerare che cos'è un risveglio qualcuno l'ha definito uno tsunami e qui non parliamo del risveglio quello che ha citato prima il fratello Alessio che è importantissimo che riguarda la vita del credente cioè quando noi ci assopiamo quando vediamo che non preghiamo più come prima che non cerchiamo più il Signore come prima allora Dio ci dice risvegliati cioè comincia a rimetterti in moto comincia a cercare di nuovo il mio volto comincia a mettere in pratica nuovamente la mia parola cioè dobbiamo darci una mossa a noi stessi apprezzatevi a Dio ed egli si apprezzerà a voi qui si parla di un qualcosa di diverso un'altra tipologia di risveglio che viene direttamente dallo Spirito Santo dal Signore e dicevano questi fratelli appunto come ho detto poc'anzi che i risvegli che vengono da Dio sono dei veri e propri tsunami nel senso che prendono infuocano le città le nazioni in modo così particolare dove si vede l'opera di Dio manifestata in modo evidente e inequivocabile fratelli e sorelle lo Spirito inizia ad operare in maniera imprevedibile io ricordo fratelli nella nostra piccola chiesa quando c'era il pastore Ezio evangelisti mio papà ero piccolo e grazie a Dio ho assistito a a questi piccoli risvegli li chiamo piccoli perché rispetto a questi grandi risvegli insomma non possiamo dire che sono grandi confrontandoli con queste esperienze però abbiamo visto tante persone tanti credenti battezzare nello Spirito Santo e ricordo ancora delle riunioni dove il mio papà in quel momento non mi diceva dice non riesco a gestirle comunque sia io lascio fare perché il Signore sta battezzando quindi si metteva da un lato e si godeva l'opera del Signore e vi garantisco che sono state battezzate molte persone nello Spirito Santo lui stesso lui stesso è stato battezzato nello Spirito Santo senza sapere che Dio donava quel dono sapete come è successo? è successo credo che come predicatore c'era il fratello di Biaggio e il fratello di Biaggio stava leggendo Atti capitolo 10 la storia del centurione Cornelio e papà era seduto in un banco vi dico solamente che aveva un forte desiderio di rivedere Dio il Signore gli aveva messo questo desiderio fortissimo nel cuore ma non sapeva che Dio battezzava dello Spirito Santo a un certo momento mentre il fratello di Biaggio finisce di leggere Atti capitolo 10 cioè quando dice che lo Spirito cadde su tutti coloro che ascoltavano la parola in quel momento quindi non c'è stato un commento della parola c'è stato solo una lettura lo Spirito è caduto sul fratello Ezio Evangelisti ed è stata un'esperienza meravigliosa fratelli e sorelli immaginate un po' un uomo che lui mi raccontava che sentiva una gioia un amore nel cuore che è indescrivibile e queste lingue che Dio gli aveva messo nel cuore sono esperienze fratelli raccontarle non rende l'idea bisogna provarle certe cose e questo è frutto dell'opera di Dio perché è scritto in Atti capitolo 2 versetto 17 leggeremo solo qualche versetto fratelli perché sono molti i versi che riguardano insomma questi argomenti dice avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni io spanderò il mio spirito sopra ogni persona e noi siamo chiamati fratelli e sorelle a ricercare queste esperienze noi oggi stiamo vivendo non quello tsunami purtroppo e neanche quelle onde tanto alte stiamo facendo dei semplici esempi ma ci sono dei piccoli flutti stile di grazia già abbiamo dice un cantico ma una grande pioggia chiediamo mi viene in mente la vasca di Betesda questa acqua ferma che era circondata da infermi e di persone che avevano bisogno di guarigione ebbene questa acqua ferma quando veniva mossa dal Signore il primo che entrava in questa tutti lo sappiamo il primo che entrava in queste acque veniva guarito di qualunque infermità ecco noi io credo che oggi noi ci troviamo proprio tutti intorno diciamo a questa a questa acqua a questa vasca che però l'acqua è ferma e abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio venga a muovere queste acque fratelli e sorelle salvando guarendo battezzando nello Spirito Santo abbiamo cantato Signore vogliamo di più io credo fratelli magari correggetemi se sbaglio oggi abbiamo diverse correnti di pensiero nell'ambito spirituale ci sono coloro come ho detto prima che vengono sempre benedetti che fanno queste esternazioni così grandi il Signore mi ha benedetto il Signore ha benedetto la riunione il Signore ha benedetto quell'altra riunione poi c'è una seconda categoria di credenti coloro che invece hanno proprio sostituito l'opera genuina dello Spirito Santo con mere imitazioni mistificatori cioè coloro che gli piace la teatralità insomma attirare gli sguardi attirare le persone attraverso falsi miracoli false opere false profezie e fratelli questa è una brutta categoria poi ce n'è una terza ci sono coloro che si accontentano il Signore mi ha benedetto il Signore mi ha dato questo e io sto bene così non voglio muovermi da così ho anche un lavoro ho una certa sicurezza nelle cose e quindi perché cercare di più dal Signore e poi ci sono coloro forse forse dico perché io non conosco i cuori di tutti una piccola parte che ricercano la manifestazione dello Spirito Santo per l'utile comune e noi fratelli e sorelle vogliamo rientrare in questa categoria non dobbiamo accontentarci in Primo Corinti capitolo 14 versetto 1 ve lo leggo ma è un testo che insomma conoscete un po' tutti l'Apostolo Paolo incoraggia la Chiesa di Corinto una Chiesa che già insomma era bella arricchita dei doni spirituali dice ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali principalmente il dono di profezia un uomo come Paolo che aveva ricevuto molto dal Signore dice a questa Chiesa non vi accontentate non vi accontentate eppure è scritto nella prima epistola che non difettavano di alcun dono questa Chiesa ma insomma ma quanto dovevano ricevere questi fratelli Paolo conosceva il bisogno impellente di ricevere di fare queste esperienze fratelli e sorelle ma quanto più noi abbiamo bisogno fratelli di ricevere da parte del Signore veramente e i doni dello Spirito non sono il frutto dei nostri sforzi sembra quasi che noi dobbiamo forzare la mano allo Spirito Santo nel senso che poi alla fine siamo noi i slanci di fede che vengono fatti ma è lo Spirito che decide a chi distribuirli e come dobbiamo in qualche modo aspettare che lo Spirito di Dio si muova verso di noi che ci faccia sentire quello che dobbiamo fare gloria al Signore spero di di essere chiaro insomma fratelli e sorelle e nella mia piccola esperienza stavo proprio in questi giorni ripensando ad alcune esperienze veramente belle fratelli che ho fatto col Signore nell'arco degli anni e non le ho mai raccontate ai miei fratelli a molti dei miei fratelli ripensavo ad una in particolare ricordo al campeggio quando il Signore veramente espandeva il suo spirito abbiamo visto specialmente al campeggio di Rocca Monfina abbiamo visto decine di fratelli e di sorelle battezzate nello Spirito Santo alcuni guariti alcuni liberati ed è stata un'opera meravigliosa cioè noi abbiamo cominciato così a conoscere il Signore ricordo ancora quella sera che ci trovavamo al campeggio eravamo parecchi molti fratelli molte sorelle che avevamo proprio il desiderio di sperimentare di cercare lo Spirito Santo io pure ancora non ero battezzato e mi dissero che quella sera sarebbe venuto un fratello ancora mi ricordo il nome il fratello Baldovino e io dissi fra me e me dico va bene se viene il fratello dico che cambia dico è il Signore che opera dice no ma guarda che questo fratello il Signore lo usa bene io sinceramente non è che avevo questa grande fiducia ma vi garantisco fratelli che quella sera da quella sera il Signore ha cominciato un'opera meravigliosa io non ho mai visto tanti credenti tutti insieme battezzati nello Spirito Santo e l'unico che forse non l'aveva ricevuto ero proprio io quello che dubitava di questo fratelli ed è stata un'esperienza però per me toccante molto toccante pensate che la persona che ho trascinato a rispondere all'appello perché il fratello fece un appello noi abbiamo tutti risposto in massa e quello che stava vicino a me non voleva io l'ho preso per il braccio andiamo andiamo lui il Signore l'ha liberato e battezzato dello Spirito Santo e io no sono tornato al posto poi il Signore l'ha fatto quando siamo tornati in chiesa per dirvi questo fratelli sono esperienze meravigliose ve ne potrei raccontare altre personali ma non voglio non voglio andare oltre con il tempo è scritto in primo corinzi capitolo 2 versetto 9 sentite che bella questa parola e poi è una parola che voi conoscete sicuramente ma come è scritto le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano fratelli sorelle l'opera di Dio non è finita sicuramente c'è un assopimento come diceva il fratello un addormentamento nelle cose spirituali ma Dio può ancora fare cose grandi in mezzo al suo popolo ed è scritto in Efesi capitolo 3 versetti 20 e 21 sono questi versetti che a me hanno accompagnato in tutto questo tempo ora a colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo a lui sia la gloria nella chiesa in Cristo Gesù per tutte le età nei secoli dei secoli amen a colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quello che noi domandiamo o pensiamo che cosa dobbiamo fare fratelli e sorelle dobbiamo ricercare il Signore risvegliarci come è stato detto all'inizio non accontentarci nel senso qualcuno potrebbe dire ma come Paolo ha detto siate contenti dello stato in cui vi trovate io sono contento si materialmente è vero spiritualmente dobbiamo essere contenti perché abbiamo conosciuto il Signore non accontentarci significa continuare a chiedere a me viene sempre in mente l'esempio e poi andiamo in preghiera di Eliseo che stava attaccato a parte l'aspetto escatologico di questo brano della scrittura e stava sempre attaccato ad Elia ve lo ricordate vero? a un certo punto qualcuno va ad Eliseo e gli dice ma lascia il tuo Signore dice ma tanto verrà rapito verrà portato via ma non lo sai dice no lasciatemi stare a un certo momento lo stesso Elia si rivolge a Eliseo e gli dice ma insomma ma tu che cosa vuoi da me io voglio il doppio dello spirito gloria a Dio il doppio dello spirito fratelli e sorelle dobbiamo chiedere al Signore dobbiamo essere arditi verso il Signore non perché lo meritiamo perché noi non meritiamo nulla ma dobbiamo ricevere dal Signore per poter dare a chi è intorno a noi ma come facciamo a dare fratelli se il Signore non arricchisce i nostri cuori come facciamo fratelli a predicare con potenza se Dio non ci riempie della sua potenza quando Paolo scrive ai Corinzi dice io non conoscerò il parlare quando verrò in mezzo a voi ma la potenza non è il ben parlare non è un parlare forbito quello che può colpire i nostri interlocutori ma è quello che viene dallo Spirito Santo e io voglio diventare quel credente fratelli e sorelle dice perché usi la parola diventare sì perché ancora oggi non mi sento quel credente quel tipo di credente ripieno della potenza di Dio ve lo dico proprio con schiettezza però sento la necessità di ricevere da Dio e spero che presto il Signore possa riempirci a tutti quanti oggi c'è il bel parlare fratelli ci sono credenti grazie a Dio anche per questo predicatori che parlano molto bene fratelli noi non siamo chiamati solamente a parlare bene noi siamo chiamati a parlare e lo ripeto guidati e sotto l'unzione dello Spirito Santo ricordiamoci sempre che quando Pietro fece quel discorso davanti a tutti Pietro non era un grande oratore era un pescatore ma era un pescatore ripieno dello Spirito Santo e circa 3.000 persone furono compunti nel cuore tramite quella breve predicazione vogliamo chiudere gli occhi e pregare fratelli gloria al nome santo del Signore vorrei invitare la sorella Francesca e il fratello Maurizio a cantare quel meraviglioso inno il numero 90 a Pentecoste e poi pregheremo il Signore insieme Alleluia a Pentecoste scese sui fedeli il Santo Spirito con la pienezza e virtù del Ciel di Dio annunciarono l'amor andarono nel mondo a predicare la verità compunse e il cuore migliaia accettarono l'Evangel provati vinsero i dolor Spirito Santo oscura e l'or risvegliati tutti riempi via ma il cuore e l'Evangel e la pienezza potrego proclamare e il giusto per la sua per vivrà fu il motto che fugò l'errore e come fuoco allora la verità si sparso ovunque divampò poi Dio la Pentecoste rinnovò e i grandi svegli mandò ancora questa potenza oggi noi bramiamo scendi su noi con sola tu Spirito Santo oscura e l'or risvegliati tutti riempi fiamma il cuore copro tra noi per le Vangelle nella pietezza potremo proclamare alleluia gloria a Dio gloria a Dio vogliamo chiudere gli occhi e pregare il Signore tutti insieme fratelli e sorelle adesso riattiverò l'audio però mi raccomando le voci basse gloria al Signore alleluia questa potenza oggi noi bramiamo alleluia chi si sente può innalzare una preghiera al Signore gloria al nome santo del Signore gloria al nome che è un Dio fedele un Dio meraviglioso aiutaci alle circondazioni si Signore si Signore alleluia gloria al tuo mio desideriamo si alimenta questo desiderio Signore metti questa brama gloria al tuo nome Signore gloria al tuo nome Signore gloria al tuo nome Gesù amore Dio d'amore Dio d'amore gloria al tuo Signore gloria a te Signore facci il ritenerito il Dio fedele gloria al tuo nome aiutaci da parte nostra a metterci con ogni impegno Signore aiutaci gloria a te Signore gloria al tuo nome eterno Signore gloria al tuo nome eterno Signore gloria a te Gesù Dio d'amore Dio d'amore Dio d'amore Signore glorifica di glorifica la mia Signore battezza nello spirito gloria al tuo continuo a battezzare Signore gloria al tuo nome Signore Signore Gloria a te Gesù Dio d'amore Dio d'amore Gloria al tuo nome Signore Gloria al tuo nome Signore Aiutoci a risvegliarci Gloria al tuo nome Signore Signore Siè il Signore Gloria al tuo nome Signore Gloria a te Gesù Gloria a te Gesù né meu nome Dio d'amore Dio d'amore Gloria Si sente vuoi innalzare una preghiera a Dio Gloria a te, Maria a te, gloria a te, 여러�bti e gloria a te, gloria al perlu di tu, giorni d'ambiente, gloria a te, filosofa, e buono di te, gloria a te, gloria al tuono mese, gloria all'arte, gloria al tuono, gloria al tuono, gloria all'arte e gloria al te, gloria al tuono, gloria al tuono, gloria alle ora. Grazie Padre per questa opportunità che ci hai dato di stare insieme Signore, a lodarti e a ringraziarti, grazie per quello che fai per noi tutti i giorni Signore, ci preghiamo per chi chiede liberazione Padre, libera Gesù, in battezza di Spirito Santo a chi lo chiede Signore, sei degno Padre di essere lodato e innalzato Signore, grazie Gesù, siamo nelle Tue mani Signore, aspettiamo quel giorno meraviglioso Signore che ci viene a prendere Padre, gloria a Te Gesù, benedetto è il Tuo nome del Signore, grazie Signore, amendo, ti chiediamo ogni cosa nel nome del Tuo figlio, Gesù Cristo, che benedetto in eterno. Amen, amen, gloria a Dio, gloria a te Gesù, gloria a Dio, grazie a te, 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 signore vi ringrazio a tutti quanti gloria a dio per essere stati con noi continuiamo a pregarlo continuiamo a cercarlo nelle nostre case perché dio è fedele alleluia gloria a te signore io voglio incoraggiarvi non solo a voi ovviamente voi ci siete sempre ogni giorno incoraggiare altri a raggiungersi a queste preghiere se non volete farlo se non ve la sentite ovviamente fatelo nelle vostre case e il signore sicuramente ci benedirà abbiamo bisogno di questo risveglio che giunga nei nostri cuori fratelli e lo dobbiamo cercare con tutto il cuore non accontentiamoci andiamo avanti rallecriamoci nelle vie del signore stiamo attaccati a lui e noi sicuramente vedremo la sua gloria manifestata il signore ci benedica un abbraccio a tutti quanti grazie fratello alessio grazie a ciascuno di voi un abbraccio a tutti dio piacendo ci vediamo presto pace del signore a tutti grazie a tutti